Salve a tutti, intanto che io mi vedo la compagnia del cigno che è andata in onda il domenica 9, io perché avevo persone non me le sono viste, quindi me la sto vedendo adesso, però faccio intanto la botella spessa perché voglio mettere tutto a posto. Allora, le prime due cose che ho preso sono questi qua, questi, e sono buonissime perché noi le mettiamo anche nella pasta. Poi ho preso, per provarlo, filetti di tonno all'olio di oliva, sempre della Conad, poi Leonor, poi questa... Provenzione di tonno. Un attimo, mi scordo, mi sposto. Questi i tavolioli, sempre della Conad, perché io li trovo buonissimi, realmente. Non... Non per... Perché mi possono vedere, ma... Allora, questo... Questo video non è una specializzazione, per carità. È soltanto una svolta della spesa Conad. Poi ho preso una, due, tre, quattro, cinque di questi. Anche se sono buonissimi. Poi ho preso una e due di formaggio, che qua... benedizione. Sabeva come... Nulla. Come l'acqua. Come l'acqua. E ho preso altre tre confezioni di zucchero. E ho preso, finalmente, ho trovato i peperoni. E fare la pasta ai peperoni, e fare qualunque cosa con i peperoni. Poi ho preso un'altra marabinente, che me l'hanno consigliato. E... Me l'ha consigliato il mio suore, che l'ha provato e mi ha detto che è buonissimo. Perché? Lo provo e vi dirò com'è. È al cocco. Allora... Cioè, la profumazione è al cocco, però... Non lo so. Se mi piace... È questo. Tutto qui la spesa. Non è... Nulla di che... Vabbè, ho preso altre cose da mia mamma. Però qua non ce l'ho, giustamente. Io l'ho portata a lei. Il latte. E... Il... Vabbè, una cosa dal bagno. Non mi ricordo. E quindi... È tutto qui. Ho speso con... Con... Il profumatore del bagno. ... del bagno. Con... Con quella la, io speso 55, e ne passa euro. Non è caro. Io mi trovo benissimo con... con questa azienda con questo marchio io mi trovo benissimo se vi piace godivi dettolo mettetevi un pollice su iscrivetevi soprattutto al mio canale e commentate vi auguro una buona giornata e come ho detto l'altra volta confidate confidate nel Signore che Lui vi aiuterà in ogni cosa e c'è un po' di giorni che io lo sto vivendo e io il Signore lo amo e io ho detto un paio di giorni che io sento questa cosa sento che confidate nel Signore la nostra vita nelle mani sue è bellissimo è molto bello non sei passata tra tutti i bambini se poi il confidale del Signore tutte le cose si aggiusteranno un bacio alla prossima ciao ciao è bellissima perché non mi ha niente una bia Grazie a tutti.